buongiorno hai mai pensato di cambiare i cerchi alla tua vettura se sì prima di farlo prima di procedere all'acquisto dai un'occhiata a questo video e senti cosa ci racconta luca di empower il quale dispenserà ottimi consigli su come procedere all'acquisto ma soprattutto quali sono quelle due o tre regole per non andare contro le leggi della fisica rimaniamo in sicurezza se decidiamo di cambiare i cerchi alla vettura accertiamoci che ciò che stiamo andando a comprare è l'ideale per la nostra vettura non perdiamo tempo e buona visione bene una delle domande che più spesso ci vengono fatte riguarda la scelta del cerchio in lega i clienti vogliono per la maggior parte delle volte un cerchio in lega che sia a filo con la carrozzeria senza l'utilizzo dei distanziali e allora noi cosa abbiamo fatto abbiamo messo sulla nostra pagina di empower.it un tool per il calcolo dell'offset dalla home page di empower è sufficiente cliccare sulla voce calcolo offset in alto a destra e vedrete catapultati in questo fantastico tool dove vi facciamo inserire sulla parte sinistra dello schermo le misure iniziali cioè quelle che avete già sulla vostra auto quindi la gomma e il cerchio e l'et del cerchio e sulla parte destra invece andrete inserire quelle che saranno le misure future le presunte misure future in modo da poter fare dei calcoli qui per esempio mi sono già preparato e abbiamo messo che si passa da 205 55 16 a una 225 45 17 nello specifico il vecchio cerchio in lega diciamo quello oem della vettura era un 16 per 6 e mezzo con et 45 mentre il proprietario vuole passare a un 17 e sta optando per un canale 7 e mezzo con un et più basso cioè 40 il tool vi da una serie di informazioni è veramente molto specifico ma quello che vi interessa più è la parte qui scritta vi dice subito che lo pneumatico sarà 5 mm più vicino alla sospensione perché quando voi andate a prendere un canale più largo del cerchio in lega il canale non solo farà in modo che il cerchio in lega esca verso l'esterno quindi verso il passaruota ma allo stesso modo a specchio diciamo la grandezza del canale la differenza di grandezza del canale in questo caso un pollice perché si passa da 6 e mezzo a 7 e mezzo si riflette anche all'interno quindi è vero che sarà più sporgente ma sarà anche più largo all'interno quindi bisogna anche considerare che ci sia spazio tra il cerchio in lega e gli organi interni quali per esempio l'ammortizzatore eccetera eccetera inoltre ci dice anche che il che lo pneumatico uscirà di 15 mm mentre il cerchio in lega di per sé sarà più sporgente di 18 mm rispetto all'originale questo perché anche il pneumatico è cambiato siamo passati da una 205 a 225 quindi abbiamo un pneumatico con un battistrada molto più largo rispetto al precedente con questo tool è quindi possibile capire con certezza quanto il nuovo cerchio in lega sia più o meno sporgente rispetto al precedente non vi resta a quel punto che prendere le misure sulla vostra auto e rendersi conto se effettivamente avete spazio a sufficienza per installare questo cerchio in lega resta il fatto che essendo comunque una cosa magari per i meno meno pratici comunque complicata lo staff di empower è sempre a vostra disposizione e quindi se voi ci dite che macchina possiedete qual è il vostro modello di cerchio che vorreste installare e quello presente lo possiamo calcolare insieme a voi potete contattarci direttamente tramite il nostro sito internet la sezione contatti oppure sulle nostre pagina social come facebook e instagram per esempio manteniamo che comunque hai una gomma da 205 quindi la rimettiamo di nuovo a 205 con la spalla sempre da 55 come era la tua precedente sul libretto però mantieni comunque il cerchio in lega con misura 16 ma stai aumentando magari soltanto il canale o il letto offset che cosa succede succede che un canale più grande andrà a far lavorare in modo diverso lo pneumatico quindi è ovvio che ci sono dei limiti che sono imposti dalla fisica diciamo un cerchio con un canale troppo grande non può essere montato su un pneumatico troppo piccolo perché se no spancia in effetti se noi andiamo ad aumentare il canale qua questo grafico ti fa vedere subito come spancia guardate qui se passo da otto e mezzo a dieci questo è il pneumatico che si allarga sempre di più ti fa vedere quanto si sta allargando il pneumatico capisci che questa cosa non è giù non è corretta rispetto a come dovrebbe essere il pneumatico certo quindi ritorniamo a una cosa ho messo un canale da 11 e mezzo ci credo però se hai una 205 vuoi mettere un 7 ci sta la gomma sta ancora bene eccola qui disegnata vuoi mettere un 7 e mezzo dai leggermente spanciata ma ci sta quindi il consiglio è quanto possiamo allargarci di canale rimanendo sempre in termini di sicurezza ma secondo me un pollice massimo un pollice e mezzo neanche a farla apposta proprio questa mattina abbiamo venduto 6 cerchi in lega per una golf da competizione che aveva bisogno di allargare la carreggiata è una mk2 mostruosa eccola qui questa è una mk2 da time attack ovviamente lui ha fatto degli allargamenti importanti quindi ha potuto prendere un cerchio con un canale molto largo ne ha presi 6 perché essendo una macchina da competizione ha bisogno di avere più cerchi in lega già montati sulle gomme semi slick così prende e cambia vi voglio far vedere un attimo un video di questa auto in azione tigre che motore monta questa è un 2000 con corpi farfallati da 9000 giri non solo quello che c'è c'è il cambio in desti sequenziali e la palestra tutta completamente svuotata l'immiginale guarda guarda tutto il modo l'acqua rigida dall'headquarter di mpower per oggi è tutto vi ringraziamo per aver visto questo video e vi pongo una domanda li avete cambiati voi i cerchi in lega della vostra auto? avete intenzione di farlo? quale marca è una delle vostre preferite? fatecelo sapere nei commenti qui sotto e non dimenticate di mettere il like e iscrivervi al canale officina del pilota ciao a tutti